Salve e benvenuti a questo primo appuntamento sperimentale del notiziario sportivo di Assist che da questa settimana accompagnerà le consuete dirette del giovedì sera. Apriamo con il girone C di Lega Pro e con le buone notizie per la Paganese in vista della gara casalinga contro il Cosenza. A secco di successi da troppo tempo, gli azzurro stellati di Andrea Sottil devono capitalizzare al massimo la sfida contro i Siliani per evitare di finire di nuovo nelle sabbie immobili della classifica e vanificare quanto di buono fatto proprio dall'approdo in panca dell'ex difensore di Fiorentina e Udinese. È una gara importante proprio per i contenuti di classifica. Paganese e Cosenza infatti devono lottare per tenere a debita distanza la zona play-out. 29 punti per gli azzurro stellati, 28 per i calabresi e griglia di post-season a quota 25. Sottil ritrova l'esterno offensivo d'Eli, reduce da un problema muscolare che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo. A quanto pare però resterà fuori dall'11 che scenderà in campo domenica alle 11 allo Stadio Marcello Torre nell'insolito appuntamento mattutino previsto dall'ormai consueto, quanto indigesto, spezzatino di Lega Pro. Sul fronte opposto il Cosenza rinuncia agli attaccanti Cori e Corsi, entrambi squalificati. Lasciamo i professionisti e scendiamo nel girone H di Serie D, dove si attendono sviluppi sulla situazione societaria sempre più ingarbugliata della Cavese. Ieri c'è stato il comunicato a firma di staff e calciatori, che chiedono a gran voce chiarezza alla dirigenza metelliana, soprattutto in merito al mancato versamento dei rimborsi negli ultimi tre mesi e alle nebbie che avvolgono il futuro della squadra. E domenica la stessa Cavese riceverà la US Scafatese, che continua ad essere a serio rischio retrocessione diretta dopo la sconfitta casalinga contro il Taranto. Sfida tosta, quella del Simonetta Lamberti. Ascoltiamo il centrocampista giallobru Marco Cuomo. Marco Cuomo, risalite le prestazioni personali, però nelle ultime due partite non sono bastati a fare i punti che la Scafatese si aspettava. Sì, purtroppo non siamo riusciti a raccogliere quello che abbiamo anche meritato sul campo, perché pure per esempio domenica col Taranto abbiamo fatto una buona gara, il primo tempo l'abbiamo messo anche in difficoltà, poi per disattenzioni stiamo perdendo punti importanti. Come bisogna reagire a questo momento? Crederci ancora nella salvezza diretta oppure cominciare a fare qualche calcolo sulla posizione play-out? Quello è un obbligo, noi dobbiamo andare in campo domenica dopo domenica per cercare di fare più punti possibili, cercando di guardare quantomeno la classifica, poi alla fine si tirano le somme. La partita con la Scafatese, l'ambiente un po' in burrata, scaccava, però squadra di gran valore l'ha dimostrato già nella prima parte del campionato di essere una delle potenze, delle corazzate di questo giorno. Sì, come dice lei, il valore della Scafatese non si discute, stanno avendo qualche problema societario, ma questo a noi non deve importare. Noi dobbiamo andare in campo per cercare di fare il meglio e poi come ti ho detto, domenica dopo domenica vediamo cosa riusciamo a fare. Perché il vero cuomo si è visto solo adesso? Quali sono stati i problemi? I problemi sono stati, come prima cosa, la mancata preparazione, che io sono venuto qua a fine settembre, non ero abituato a non fare la preparazione, l'ho sempre fatta e comunque dopo l'infortunio avevo bisogno di carburare e adesso mi sento bene. Come hai fatto ad adattarti a una situazione del genere, nel senso che tu venivi da un campionato vissuto dai professionisti da protagonista? Solo che l'anno scorso ho fatto il mio dovere, abbiamo conquistato una salvezza davvero difficile, con le nove squadre che rimanevano in C e le nove che retrocedevano in D, era un campionato veramente difficile. Io ho fatto quasi tutte le partite e ho dato il mio contributo. I perché non sono rimasti i professionisti non lo so, però comunque questo è un campionato di assoluto valore, quello dell'AD, sono felice di essere qua e lo sarei molto di più se riuscissimo a salvarci. Diametralmente opposta la situazione di classifica della Sarnese, che vive con grande serenità l'ottimo momento di forma in campionato. Il pareggio ad Arzano ha allungato a cinque gare la serie di risultati utili consecutivi in trasferta, ma all'orizzonte c'è la sfida alla capolista Fidelisandria. Ascoltiamo l'attaccante Pierpaolo Imparato. Pierpaolo Imparato sta vivendo un girone di ritorno completamente diverso dall'andata, è impiegato più volte da titolare, che cosa stai esprimendo di buono e che cosa ti sta insegnando questa esperienza in Serie D? Sicuramente sto facendo molto meglio in questo girone di ritorno, speriamo di fare quante più presenze possibile, speriamo che arrivi presso questo goal che può darsi che mi sblocco e gioco ancora meglio di come sto facendo. Raccontaci un po' della tua storia, due anni fa facevi parte della vecchia Sarnese, il bombero della Juniors, poi c'è stata quell'esperienza in Beretti con la Bellaria l'anno scorso. Sì, dove ho fatto anche tre presenze in Lega Pro, diciamo che per me non cammera Sarnese, comunque è il mio paese e quindi esprimo sempre a meglio quello che faccio. Speriamo di fare bene anche quest'anno, ogni anno cerco di fare sempre il meglio. Che cosa ti hanno insegnato invece gli attaccanti importanti che ha avuto la Sarnese quest'anno? All'inizio c'era anche Marcucci, adesso invece come prima punta è rimasto solo maggio. Che insegnamenti ci sono da prendere da questi due? C'è sempre da imparare, ogni giorno c'è sempre da imparare qualcosa, Enrico comunque lo devo ringraziare, mi ha sempre aiutato quando non giocavo e adesso c'è Domenico che comunque mi aiuta anche lui tanto quando mi vede in un momento di difficoltà. Domenica partita ad Andrea contro la prima della classe, squadra un po' in difficoltà viste gli ultimissimi risultati ma sempre signora squadra, voi però fuori casa avete un volino di marcia straordinario nell'ultimo periodo. Sì, si è capovolto un po' il nostro campionato, prima andavamo meglio in casa, adesso andiamo meglio fuori casa. Speriamo di fare molto bene ad Andrea e cerchiamo almeno di prendere un punto. Un altro salto giù nel girone B di eccellenza dove la Scafatese 1922 deve presto tirarsi fuori dalla crisi di risultati se il vuole almeno aggrapparsi alla speranza playoff per il salto in Serie D. Il pareggio esterno con la Nocerina ha probabilmente chiuso il discorso primo posto ma la squadra è chiamata a reagire immediatamente per evitare il rischio di staccarsi troppo dal secondo posto. Il regolamento infatti prevede che i playoff non vengano disputati se tra la seconda e la terza classificata ci sia una distanza di 10 o più punti. Al momento il Gragnano ha 7 lunghezze di vantaggio sui Canarini e se proprio non sarà possibile una rimonta completa per la squadra di Gigi Incitti sarà assolutamente necessario almeno tenere invaricato il distacco. Patron Cesarano resta il principale collante per un gruppo che sta vivendo un periodo troppo burrascoso dopo la sconfitta finale in Coppa Italia regionale contro la Virtus Bolla. Il prossimo turno prevede per i Canarini il turno interno contro una palmese reduce dal pesante 4-0 Casalingo subito per mano del Gragnano. Cliente non semplice da affrontare con la testa giusta per rompere finalmente il digiuno da vittoria. In casa Nocerina il pareggio con la stessa Scafatese è stato accolto con favore visto l'enorme gap in classifica. E nel weekend i rossonieri di Enzo Criscuolo saranno impegnati in trasferta contro la Forza e Coraggio squadra fortemente depauperata di qualità e quantità dopo la parentesi invernale della campagna trasferimenti, il servizio di Marco Esposito. La Nocerina dopo il prezioso pareggio a Riti Bianche ottenuto in casa nel derby con la Scafatese ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno con il Forza e Coraggio. La gara che si giocherà allo stadio Mellusi di Benevento sarà posticipata con ogni probabilità a domenica per la concomitanza del match di Lega Pro tra Benevento e Barletta in programma sabato allo stadio Ciro Vigorinto sempre nel capologo Sannita. Notizia positivo ma anche meno per il mister Criscuolo che ritroverà dopo la squalifica il terzino Arena e il centrale difensivo Trezza ma dovrà rinunciare al leader duttile Attilio della Femina che andrà in squalifica per cumulo di ammunizioni. Ci saranno da valutare poi le condizioni dell'altro terzino, Iommazzo, infortunatosi col Gragnano e fuori nella sfida con i Canarini. I Beneventani, reduci dal pesante tonfo sul campo della Corazzata Sant'Agnello, sono alla ricerca di punti salvezza visti solo i 26 punti in classifica, mentre per la Nocerina sarà fondamentale conquistare un punto che avvicinerebbe sempre di più i rossoneri all'obiettivo salvezza. Dall'eccellenza alla promozione. Partiamo dal girone di D, dove la Rocchese ha forse detto definitivamente addio ai sogni di primo posto. Dopo il pari con la Picciola, i rosso-blu ospiteranno sabato la modesta Reala Versana. Ascoltiamo il centrocampista Davide Di Libero. Nell'ultimo turno c'è stato un pareggio con la Picciola, pensi che questo abbia pregiudicato in modo irreversibile le speranze per il primo posto? Sicuramente è stata una brutta partita che sicuramente ha pregiudicato il campionato, a mio avviso, perché recuperare 7 punti in 7 giornate non è facile, considerando che l'Ebolitana ha la maggior parte delle partite in casa. È vero anche che noi abbiamo un calendario più abbordabile rispetto a loro, ma comunque penso che una scuola come l'Ebolitana non perderà 7 punti in 7 partite. Appunto l'Ebolitana domenica ha il big match contro il Giffonese, dovete sperare che qualcuno perdere i punti e voi dovete andare a fare il risultato. Sì, noi dobbiamo fare il risultato in casa contro il Reala Versana, non sarà facile sicuramente, perché è una squadra che verrà a giocare spensierata, siccome penso non abbia niente più da dire in questo campionato. Speriamo che l'Ebolitana e il Giffonese possano avere più passi passi possibile da qui a fine anno. Sul piano personale tu hai avuto un inizio un po' difficile e molti acciacchi, adesso sei al 100%. Sì, ho recuperato, ho avuto un inizio difficile sia a livello di prestazioni che a livello fisico. Piano piano sono tornato in forma e penso che in questo girone di ritorno ho dato anche il mio contributo per la squadra. Nel girone B di promozione spicca il netto calo del Castel San Giorgio. La squadra di Cerminara resta capolista ma ora sente il fiato sul collo del San Vito Positano, staccato di soli tre punti. Analizziamo il momento della squadra con il direttore sportivo Antonio Guarinello. Direttore, momento di difficoltà per la squadra, è inutile nasconderselo, però c'è un rush finale da affrontare con la massima concentrazione e soprattutto con il massimo della forza mentale che questa squadra ha dimostrato già nel girone d'andata. Beh, io voglio puntualizzare una cosa che è importante. Noi intanto siamo nati non per fare questo campionato. Se guardiamo un po' tutti i gironi, forse le squadre, l'unica squadra che è rimasta come è dal mese di agosto siamo solo noi, tranne l'aggiunta fatta con Squitì. E' chiaro che tu quando incontri le squadre, cioè nei giorni di ritorno, e te le trovi che sono tutte totalmente diverse del girone d'andata, allora è facile dire che il girone di ritorno è un tutt'altro campionato. Intanto gli altri si sono rinforzati. Noi, è un momento di appannamento perché lo dimostrano anche i risultati, le prestazioni che non sono proprio... Però stiamo lavorando per portare a termine quello che oggi siamo ancora noi padroni del nostro destino e mi auguro che chi è che a oggi non vorrebbe raggiungere l'obiettivo che poi è cambiato durante il percorso. Arriva l'oratorio Don Guanella, una delle mine vaganti di questo campionato perché in casa ha fatto tanto bene, ha dato difficoltà anche in gare esterne, però insomma, come detto, non bisogna più guardare in faccia a nessuno. Intanto lo scuono diretto ce l'abbiamo fra quattro domeniche e ci sono dodici punti in pali. Tutte le domeniche saranno finali. È battaglia tutte le domeniche. I ragazzi lo sanno, ci stanno dando questo fantastico regalo da agosto che hanno iniziato a lavorare. Sanno bene quei sacrifici che devono fare. Noi ci siamo sempre vicini e poi è chiaro che il calcio ha tante di quelle insidi che noi non riusciamo a capire che cosa accadrà. Un'ultimissima battuta Flash. Questa squadra, come ha detto lei, nella prima parte del campionato, anzi per gran parte del campionato, ha dato dimostrazione di avere il miglior gioco probabilmente del girone. non è una squadra che è cambiata, il lavoro di mister Cerminara si è visto da subito e allora non possono essere diventati brocchi tutto in una volta. Ma questo ce lo chiediamo. Però dal gioco di ritorno abbiamo avuto un'infinità di infortunati. Avendo una rosa che è quella lì e non puoi sopperire con altri, noi siamo andati avanti così. Abbiamo reso i ragazzi alla Junior, li abbiamo fatti esordire. Perché questo è il nostro modo di fare calcio. Farli giocare, farli divertire. È chiaro che noi stiamo oggi a giocarci qualcosa che noi ce la stringiamo con i denti e non la lasciamo. Perché poi per passarci sopra ce ne vogliono di settimane per mentire questo. La Propagani attende il verdetto della disciplinare sul ricorso relativo alla gara con il Barano, non disputata per assenza degli ospiti. Intanto, dopo il successo nel derby con Real Sant'Egidio, i Liguorini puntano a migliorare il proprio piazzamento play-off. L'intervista al difensore Francesco Arnese. La vittoria del derby ha rimesso un attimo le cose a posto dal punto di vista del morale. Adesso c'è la Bois Pianurese, partita da sfruttare per consolidare l'obiettivo play-off. Sì, infatti, noi col Costa da Malfi abbiamo buttato via due punti negli ultimi minuti. Però nel calcio ci sta. Venivamo da un periodo un po' balordo per quanto riguarda i risultati. Però domenica, anzi sabato, c'è stata una grande reazione della squadra. È una partita non facile perché comunque è un derby. Loro avevano pure problemi, hanno problemi di classifica, quindi ci hanno messo pure dell'oro per crearci difficoltà. Però siamo stati bravi a vincere questa partita. Sono tre punti che ci rilanciano in classifica. Amo aspettando pure il ricorso che abbiamo fatto col Barano. Niente, noi il campionato che stiamo facendo penso che è un gran campionato. Abbiamo perso dei punti per strada in maniera non bella, però siamo là e ce la giochiamo fino alla fine, consapevoli delle nostre forze. Questione più di testa o che cosa è mancato quando avete perso questi punti per strada? Perché poi nelle partite importanti avete vinto scontri diretti importanti. Voi con le piccole avete fatto un po' troppa fatica per quelle che sono le vostre qualità, i vostri numeri. Sì, non direi neanche una questione di testa o di… nel calcio purtroppo ci sono dei periodi dove tutto ti va bene, dei periodi dove giochi, crei occasioni e non riesci a vincere. Era un periodo che neanche noi all'interno del spogliatoio riuscivamo a spiegarci qual era il problema. Però abbiamo lavorato bene, in settimana comunque ci alleniamo bene, quindi comunque nel calcio chi lavora bene i risultati ti può girare solta una o due volte, ma poi nel calcio è bello perché è sempre il tangolo di gioco che parla. Se tu ti alleni bene con costanza e con co, poi le qualità della squadra ci sono, quindi dovevamo venire fuori per forza da questo periodo balordo. Ultimissima battuta flash, Castel San Giorgio o San Vito Positano chi la vince? Io dico San Vito. La sconfitta casalinga nel derby contro la Propagani, vittoriosa grazie alle reti di Marrazzo e Arnese nella prima frazione di gara, ha confermato la crisi sia di gioco che di risultati del Real Sant'Egidio. A riprova di tale crisi è il trend negativo della formazione bianca-azzurra che non vince dal lontano 11 gennaio, cioè dalla gara casalinga contro la Bois Pianurese terminata con il risultato di 3-1. Dopo quella vittoria, la squadra di Guido Silvestri ha conquistato un solo punto in ben sei gare ufficiali disputate. Misero bottino insomma, che non ha fatto altro che far scivolare il Real Sant'Egidio nella zona rossa della classifica, al quarto-ultimo posto con 26 punti. Questa situazione è tutt'altro che positiva, sta iniziando a far scricchiolare la panchina di Mr. Silvestri. La dirigenza bianca-azzurra esonerò Mr. Fontanella, alla guida del Real fino a qualche mese fa, proprio a causa dell'andamento negativo della squadra che non vinceva da quattro turni di fila. A preoccupare, oltre ai risultati negativi, è soprattutto la mancanza di grinta e motivazione dei calciatori che pare abbiano perso fiducia nei propri mezzi. C'è bisogno dunque di un cambio di rotta per uscire dal tunnel della crisi ed evitare di concludere il campionato in piena zona play-out. Il compito dell'esperto tecnico bianca-azzurro è di riuscire a rimettere in sesto il carattere e il cuore dei suoi ragazzi, che devono ricominciare a fappunti già dalla prossima gara in trasferta contro il Mari. Fanalino di coda del campionato insieme alla boys pianurese, il Mari è reduce dal pareggio esterno contro l'ostica costa d'Amalfi. All'andata il match terminò 2-2. Per i Vesuviani si tratta molto probabilmente dell'ultima spiaggia, mentre per il Real Sant'Egidio si tratta di un'occasione per conquistare punti importanti in chiave salvezza. Infine, non dovrebbero esserci problemi di formazione per Mr. Silvestri, che sarà costretto a rinunciare solo all'ander perito. Chiudiamo con l'Alfaterna, impegnata domenica pomeriggio in casa contro il realpoggio del bomber Mauro Adiletta. La matematica non condanna ancora i noserini, che devono comunque almeno puntare a migliorare il piazzamento in griglia play-out. Il servizio. L'Alfaterna continua il lavoro infrasettimanale dopo la sconfitta rimediata contro il Pimonte nell'ultimo turno del Girone B di promozione. Una sconfitta che pone fine a una serie di 5 risultati utili consecutivi, record stagionale per gli uomini di Sellitti. Tante sono le attenuanti per la squadra nocerina, priva di alcuni titolari e costretta a misurarsi contro un avversario di differente caratura intento a lottare per ben altri obiettivi. La situazione di classifica vede l'Alfaterna isolata al terz'ultimo posto, ben distante dalle ultime due posizioni, che significherebbero retrocessione diretta, ma parimenti lontana dalle zone tranquille della classifica, il che porta facilmente a immaginare il team nocerino destinato a giocarsi la permanenza nella categoria solo ai play-out. A meno di un ruolino di marcia super nel rush finale di campionato. Ciò comunque non significa che la squadra debba rassegnarsi alla propria posizione in classifica, infatti più volte ha dimostrato come, nel pieno delle proprie possibilità e senza le difezioni continue di pedine importanti, possa giocarsela a viso aperto contro chiunque. Nel prossimo weekend l'Alfaterna sarà impegnata in casa contro il Real Poggio, al quale tornerebbero utili altri punti per mettere in cassaforte la salvezza. Costruita soprattutto grazie alle continue vittorie agguantate dalla pausa invernale in poi, a modi vera e propria medicina per la squadra vesuviana, apparsa in difficoltà invece per tutta la prima parte della stagione. Per la prima volta dopo moltissimo tempo, mister Sellitti è all'imbarazzo della scelta per la formazione titolare, visti i ritorni dalle rispettive squalifiche di risorse importanti, come Molisse, Crispo e il portiere Benevento. Sulla via del recupero anche il centrocampista Vescovo, la cui presenza già per la prossima settimana sembra però quanto meno azzardata. Per quanto concerne le dirette concorrenti per la salvezza, quasi tutte sono impegnate in scontri tutt'altro che ostici sulla carta, fatta eccezione per il Florigium atteso a domicilio dalla Juve Poggio Marino, che intanto ha di nuovo affidato la panchina ad Angelo Antonio Galluccio dopo il breve interregno di Giovanni Formicola. Questo era l'ultimo servizio di questo primo appuntamento con il notiziario sportivo di Assist. Vi ricordo l'appuntamento di domani, giovedì 26 febbraio, in diretta dalle 20.30 con la versione talk del nostro programma. Ospite di questa settimana, Antonino Amarante, centrocampista della US Scafatese. Grazie per la cortesia e attenzione e vi rinnovo all'appuntamento alla prossima settimana. Grazie per la cortesia e attenzione e attenzione e attenzione e attenzione e attenzione e attenzione. Grazie a tutti.